buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di telestense faremo il punto dell'emergenza pandemica soprattutto nel centese a breve intanto oggi la regione Emilia Romagna farà anche il punto della campagna vaccinale e potrebbero emergere dati interessanti ma ne parleremo nelle prossime edizioni dobbiamo però partire con la cronaca con il caso della donna trovata morta ieri a Ferrara i carabinieri stanno indagando sulla morte della pensionata di 75 anni Alberta Paola Sturaro pensionata nata a Rovigo ma residente in città trovata senza vita ieri mattina nel suo letto nella sua casa di via Ghiara interrogato in caserma il figlio nell'ipotesi ancora da verificare che abbia ucciso la madre si tratta di un 48enne che si sarebbe autoaccusato la segnalazione al 112 è arrivata ieri mattina da uno psichiatra che ha detto di aver ricevuto un messaggio da uno sconosciuto appunto era il figlio che avrebbe detto di aver ucciso la donna l'anziana è stata trovata distesa appunto sul letto e i primi controlli del medico legale evidenziano lievi tracce di soffocamento ma non si escludono altre cause a togliere ogni dubbio potrà essere soltanto l'autopsia che il pubblico ministero ombretta volta che ha aperto un fascicolo per omicidio disporrà in queste ore e parliamo adesso però cambiamo totalmente argomento e parliamo di scuola che è sicuramente uno dei settori più colpiti da questa emergenza ma dalla regione Emilia a Romagna sono in arrivo fondi per interventi e progetti in ambito di edilizia scolastica anche a Ferrara sono diversi i progetti che saranno realizzati con un'importante ricaduta economico finanziario in città e nel territorio estense come lo sentiamo nel servizio 40 opere finanziabili con 32 milioni di euro assegnati dal ministero dell'istruzione alla regione Emilia Romagna per il piano 2020 degli interventi strutturali negli istituti di ogni ordine grado che genereranno complessivamente lavori per 48 milioni comprese le quote di cofinanziamento degli enti locali sono gli interventi in edilizia scolastica che nel territorio della provincia di Ferrara prevedono una spesa totale di 2 milioni e 460 mila euro ad Argenta la riduzione del rischio sismico della scuola elementare di San Biagio a Voghiera l'adeguamento sismico della scuola media dell'istituto comprensivo Alberto Manzi a Porto Maggiore l'adeguamento sismico dell'istituto Montalcini per oltre un milione e mezzo di euro a Ferrara per l'adeguamento antincendio della scuola e della palestra dell'istituto Bachelet a Zonovello. Noi abbiamo una pandemia sanitaria ancora da dover sconfiggere seppur pare davvero che abbiamo superato e scollinato il picco dei contagi nella nostra regione ma monitoriamo quotidianamente perché bisogna sempre essere attenti e vigili e comunque la pandemia è ancora forte ma c'è il rischio di una pandemia economica e sociale pesantissima. Oltre 100 milioni di finanziamenti per province e comuni per 172 cantieri significano 172 imprese anzi più imprese poi che concorrono a interventi edilizzi sulle scuole maestranze che lavorano e tagli medi che solitamente vedranno imprese del territorio vincere quegli appalti e fare i lavori. A questi fondi si aggiungono poi quegli riconosciuti pochi mesi fa lo scorso ottobre dal ministero dell'istruzione direttamente alla provincia sulle scuole di competenza degli enti e cioè le scuole secondarie. Per Ferrara e provincia si tratta di tre interventi per 5 milioni e 100 mila euro di cui 2 milioni e 700 mila all'Icea Roiti e 1 milione e 500 mila all'Istituto Copernico per il miglioramento sismico ed energetico e 900 mila euro al centro scolastico Remo Brindisi di Lido degli Estensi. Sono più di 100 milioni di euro diviso in due diversi interventi. Un intervento che cuba circa 48 milioni di euro di cui 32 di finanziamento nazionale e il resto di cofinanziamento che va sugli scuole di ogni ordine e grado e viene diviso sul territorio per provincia attraverso una delibera regionale. E' un altro intervento che invece è destinato solo alle scuole secondarie di secondo grado che viene dato direttamente dallo Stato alle province che sono gli enti proprietari di queste scuole e che è quello che insomma in qualche modo cuba il resto della cifra. Complessivamente nel giro di pochi giorni arrivano sul territorio le approvazioni di entrambe queste due pianificazioni. Ora però dobbiamo parlare dell'emergenza pandemica perché sono ancora alti i numeri nel ferrarese. Numeri che lo ricordiamo si riferiscono al bollettino quotidiano riferito a ieri. Siamo in attesa dei dati aggiornati di oggi ma cerchiamo di capire come si sta muovendo la curva pandemica. Ancora elevato il numero dei contagi da covid-19 a Ferrara nella provincia estense. Sono 196 nuovi positivi nelle ultime 24 ore per un totale che raggiunge 18.706 casi di cui 688 fuori provincia da inizio emergenza. I 196 nuovi positivi di cui 45 con sintomi sono stati individuati con 495 tamponi refertati. Alto anche il numero delle vittime per complicanze da SARS-CoV-2, 9 i decessi nei tre ospedali ferraresi di cui 8 registrati nella giornata di domenica 21 marzo e 1 nella giornata di sabato 20 marzo. Si tratta di 4 donne di 93, 92, 80 e 78 anni e 5 uomini di 84, 82, 80, 79 e 56 anni. Nel bollettino odierno congiunto delle due aziende ferraresi, Sant'Anna e Azienda USL, ci sono 512 persone positive entrate in isolamento domiciliare nelle ultime 24 ore, 350 quelle uscite dalla quarantena. Cala leggermente anche se resta alta la pressione sugli ospedali. Al Sant'Anna di Ferrara si registrano 7 nuovi ricoveri di cui uno in terapia intensiva. In totale sono 34 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva al Sant'Anna e al Delta di Lago Santo. Nelle ultime 24 ore sono state 132 le persone guarite dal Covid-19, due pazienti dimessi dall'ospedale Sant'Anna. Continua intanto la campagna di vaccinazione anti-Covid nel ferrarese. Nella giornata di domenica 21 marzo sono state effettuate 1.734 vaccinazioni. In totale, dal 27 dicembre, ne sono state effettuate 61.614. E andiamo nel Centese, una delle zone ferraresi più colpite dall'ondata. La chiusura anticipata delle scuole avrebbe favorito il calo dei contagi, lo ha dichiarato in conferenza stampa il sindaco della città del Guercino, Fabrizio Toselli. Ieri, sentiamo. Cento è stato il primo comune del Ferrarese a chiudere le scuole già dal 1 marzo con un'ordinanza del sindaco Fabrizio Toselli. La scelta non semplice è stata conseguente ai dati di contagio da Covid che avevano messo in difficoltà il territorio già dalla fine di febbraio, prima dell'ingresso dell'intera regione in zona rossa. Cento è sicuramente la realtà che in questa fase rispetto alla provincia di Ferrara è quella più colpita in termini di dati, in termini di contagi appunto di numeri. Un po' perché è un territorio più vicino al bolognese, al modenese, che sono anche le due province più colpite, un po' anche perché credo che sia anche una zona sia da un punto di vista industriale, sia da un punto di vista di scambi, comunque è una lingua dentro ad altre province e quindi è sicuramente una zona molto di scambio, quindi sicuramente paghiamo anche questo effetto. La scelta, secondo le parole del Sindaco, è stata vincente, considerando il calo dei contagi ottenuto nelle ultime settimane. Cento c'è stato un incremento importante anche prima del 21, quindi quando abbiamo subito l'effetto di Bologna, l'effetto di Modena e poi dopo è bastata una decisione sofferta, dolorosa, anche discussa, perché chiaramente nel momento in cui si decide di fare comunque qualsiasi sospensione a maggior ragione sulle scuole, è chiaro che è bastata questa sospensione per vedere un grafico, diciamo, una tendenza che è quindi sostanzialmente una tendenza di riduzione rispetto a quelli che sono i contagi. In merito è intervenuto il dottor Stefano Parro, consigliere comunale con delega alla salute, nonché primario di medicina generale all'ospedale di Argenta, che ha spiegato le cause dell'evolversi dei contagi in età scolastica. Già a livello nazionale è stato messo in evidenza come questo secondo, terzo picco di contagi, almeno l'ultimo, sia appunto stato messo in relazione con i contagi avvenuti all'interno delle scuole. Mentre prima la diffusione all'interno dello scuole, bene o male, era abbastanza contenuto, questa volta invece si è visto che purtroppo le scuole ci hanno giocato molto nell'aumento dei positivi. Il diffondersi delle varianti tra i più giovani ed una parallela maggiore attenzione delle persone più anziane hanno dunque provocato l'abbassamento dell'età tra i malati di Covid e tra le cause il sindaco Toselli ha denunciato comportamenti ancora non corretti da parte di alcuni cittadini. C'è gente che ancora si muove da una parte all'altra per andare a trovare i parenti o gli amici. Questo non è più possibile. Ancora non sono passate queste regole, non siamo riusciti ancora a farle passare nel senso che fino a ieri questi atteggiamenti, questi comportamenti erano possibili, oggi con la zona rossa non sono più possibili. Parliamo adesso di politica ma torniamo in città a Ferrara perché il Consiglio Comunale di Ferrara ha votato ieri e approvato all'unanimità la delibera relativa alle modifiche di regolamento del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione e anche di esposizione pubblicitaria di pannelli e anche si è parlato del canone mercatale. Allora la delibera che vede tra gli aspetti più importanti per le categorie commerciali messa a dura prova causa emergenza sanitaria ci sono la semplificazione per agevolare le imprese e l'esenzione per tutto l'anno del canone per le distese e i deor dei locali pubblici e tutto questo è stato illustrato dall'assessore comunale al bilancio e alle contabilità oltre che assessore al commercio Matteo Fornasini. La votazione si è tenuta ieri appunto nella prima giornata del discussione e votazione del bilancio preventivo 2021 del comune di Ferrara discussione del bilancio che ripartirà oggi alle 15 e anche domani tre giorni appunto per discutere gli investimenti futuri in città e anche sul bilancio di previsione 2021-2023 è intervenuto anche il partito democratico all'opposizione in consiglio comunale che ha tenuto la conferenza ieri e anticipato quali saranno e quali sono le 19 risoluzioni in merito al bilancio presentate dal PD. Sentiamo. Il comune di Ferrara è chiamato al voto in questi giorni in merito al bilancio di previsione 2021-2023. Lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 marzo sono le date di assemblea su cui il partito democratico ha presentato 19 risoluzioni. Ad anticiparle in una conferenza online sono stati gli stessi rappresentanti ferraresi del partito introdotti dal capogruppo in consiglio Francesco Colaiacovo a cui sono seguiti gli interventi di Ilaria Baraldi, Anna Chiappini, Deanna Marescotti e Maria Dall'Acqua fino alle conclusioni del segretario comunale Alessandro Talmelli che ha spiegato le perplessità. Esserei rimasti molto perplessi nel leggerlo perché politicamente sappiamo che il bilancio comunale è quello strumento attraverso il quale, anche il DUP naturalmente, è lo strumento attraverso il quale un'amministrazione fa capire quali sono le linee guida, le politiche che vogliono mettere in campo, qual è la visione della città del futuro, della Ferrara del futuro. Quello che ci siamo accorti è che nonostante tutto quello che è successo in questo anno, ovvero nel 2020, tramite purtroppo la pandemia e l'emergenza sanitaria ed economica che stiamo attraversando, da cui non siamo ancora usciti, questo bilancio non è un bilancio che ha una visione progettuale per uscire da questa pandemia, da questa crisi economico-sociale. Tra le risoluzioni gli argomenti spaziano dalla scuola alle biblioteche, dalla cultura allo sport fino alle aree verdi e alle zone di traffico limitato. Richieste sostengono i DEM che arrivano direttamente dai cittadini. Ci hanno sollecitato, come dicevano benissimo i consiglieri prima, sul lavoro. Seconda priorità tutti parlano di transizione ecologica ma su questo bilancio non c'è una visione sulla transizione ecologica. Noi abbiamo pensato anche di innestare due aspetti ulteriori che sono le frazioni e lo sport. Ultimo, non per ultimo, il trasporto pubblico locale. Ancora politica, seguito di alcuni contatti con i rappresentanti dei comitati cittadini è previsto nei prossimi giorni un sopralluogo con relativo incontro a Quartesana alla presenza del sindaco Alan Fabri, del vice sindaco Lodi e dell'assessore all'ambiente Alessandro Balboni per parlare appunto della vicenda delle antenne in questa frazione della città segnalata sui media da un gruppo di cittadini. Il tema antenne di telefonia è complesso, delicato e si presta facilmente a malintesi, ha spiegato Balboni. Le due antenne segnalate dai cittadini di Quartesana sono installate su aree private non comunali e per legge. Si tratta di aree su cui il comune non può porre alcun veto se le installazioni risultano conformi alle norme vigenti. Al contrario prosegue Balboni per quanto riguarda le aree pubbliche appettibili per i nuovi impianti. L'amministrazione sta elaborando un piano antenne che sarà pronto nei prossimi mesi e che servirà proprio a stabilire quali sono le zone più appropriate per nuove installazioni e quali aree della città non possano prevederne di nuove a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Ha detto l'assessore che dice e conclude questa dimostrazione della grande attenzione che riserviamo a un tema di grande attualità e interesse per tutti appunto quelle delle antenne per la telefonia. Ha concluso appunto Balboni. Ieri era il 22 marzo, cambiamo argomento adesso, parliamo di acqua perché ieri è la giornata mondiale dedicata a questo elemento fondamentale. Su Telestense stanno andando in onda degli speciali degli approfondimenti sul ciclo dell'acqua a Ferrara come arriva ai nostri rubinetti e che doveva finire una volta scaricati come funziona appunto il ciclo dell'acqua nella città estense. C'è un punto speciale in onda, noi ne vediamo un estratto insieme per capire appunto doveva finire l'acqua una volta che viene scaricata. Ferrara può essere considerata un esempio dal punto di vista della circolarità della risorsa idrica. Infatti proprio per la sua posizione geografica tra il Po a nord e un ramo del Po di Volano nella parte più centrale che attraversa la città possiamo vedere come l'acqua viene prelevata dalla centrale di Ponte Lago Scuro, viene potabilizzata, immessa nella rete acquedotistica cittadina per poi raggiungere le varie abitazioni. Di qui i reflui convogliati dalla rete fognaria arrivano all'impianto di depurazione e poi successivamente rimessi nuovamente in un corso d'acqua superficiale. Per la peculiarità tipica della posizione della città di Ferrara possiamo dire che considerando i parametri dell'acqua in ingresso e in uscita prima della restituzione all'ambiente, noi restituiamo all'ambiente un refluo che ha delle caratteristiche migliori rispetto a quelle con quelle preleviamo dall'ambiente. Noi come ERA gestiamo il servizio di fognatore e depurazione sulla provincia di Ferrara servendo 10 comuni e la dotazione complessiva degli asset che gestiamo è di circa 1250 km di rete fognaria divisa tra acqua puramente di nera, acque miste piuttosto che acque bianche e in più dal 2018 gestiamo anche le acque meteoriche in quanto sono diventate sempre più strategiche considerando gli eventi meteoclimatici sempre più meno regolari che possiamo verificare in questi anni. La rete fognaria a volte non si ha una grande consapevolezza della sua presenza, ci si limita a vedere che i reflui dalle nostre abitazioni spariscono quasi miracolosamente nei lavandini piuttosto che nella vella. In realtà tutte queste acque vengono poi convogliate in condotte idriche che diventano via via più grandi mano a mano che ci si avvicina all'impianto di depurazione e percorrono molti chilometri. In territori pianeggianti come quelli di Ferrara quest'acqua deve essere sollevata, ripompata più volte per arrivare agli impianti di trattamento finali e si estende per centinaia di chilometri. Teniamo presente che in città come le nostre che hanno una grande valenza storica e culturale e anche una lunga storia, molte di queste condotte sono ancora di origine medievale o tardorinascimentale, quindi sono condotte realizzate ancora in muratura di grandi dimensioni con dei volti e anche per il loro monitoraggio diventa indispensabile utilizzare delle tecnologie innovative come può essere l'utilizzo di droni che consentono di monitorarne lo Stato, soprattutto dal punto di vista dello Stato conservativo, dello Stato strutturale, in breve tempo per lunghi tratti. E con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.